Agli inizi del XX secolo il continente europeo si trovò diviso in due alleanze o due blocchi militari contrapposti. Da un lato la triplice alleanza, le cui origini bisogna fare salire nella fine del secolo precedente, ovvero al 1882, e che metteva insieme e che faceva alleare la Germania, l'impero austro-ungarico e l'Italia. Dall'altro lato invece sussisteva la triplice intesa, che nel 1904 era un'intesa cordiale e tre anni dopo divenne un'alleanza tra tre paesi, che erano l'Inghilterra, la Francia e la Russia. All'alba, in qualche modo, del primo conflitto mondiale, dunque il continente europeo si trovava pronto alla guerra, in buona sostanza. Sarebbe basata una scintilla per far mettere in movimento e far scattare il sistema delle alleanze, cosa che puntualmente avvenne nella cosiddetta polveriera balcanica, ovvero nell'area della penisola balcanica caratterizzata da diverse opposizioni, diversi momenti politici, etnici ed anche religiosi. D'altro canto, le principali cause della prima guerra mondiale vanno ricercate in ragioni politiche, e tra queste l'aggressività della Germania guidata dal Kaiser Guilamo II, la rivalità franco-tedesta con il sentimento di revanchismo proprio dei francesi, a seguito della sconfitta nella guerra franco-prussiana, per il possesso dei territori contesi dell'Alsazia e della Lorena. Il contrasto austro-russo per il controllo dei Balcani e gli irredentismi vari che riguardavano l'Italia, la Serbia, la Polonia e, più in generale, la penisola balcanica. Vero anche ragioni economiche, soprattutto rivalità commerciali tra la Germania e l'Inghilterra. Ed infine anche ragioni culturali, come le spinte nazionalistiche e, come detto, il desiderio di riparsa francese nei confronti della Germania. A questo punto, quando il 28 giugno 1914 uno studente serbo, Gavrilo Princip, membro di una società segreta che aveva per obiettivo la nascita di un'Airlanda e Serbia, commise un attentato ai danni del re del trono d'Austria e Ungheria, l'acciduta Francesco Ferdinando d'Asburgo e sua moglie Sofia, le condizioni, gli eventi, precipitarono. L'Austria colse subito l'occasione per impartire una dura lezione alla Serbia. Il 23 luglio inviò a Berlado un ultimatum di 48 ore, contenente richieste durissime che si configuravano anche nei termini di limitazione alla sonorità serva. Il governo di Berlado si mostrò subito conciliante, ma dovette respingere le clausole più vessatorie. L'Austria, la quale invece pretendeva una resa incondizionata, non si ritenne soddisfatta e il 28 luglio dichiarò guerra alla Serbia. A questo punto, a seguito delle alleanze già stipulate, i vari fronti si misero in movimento. La Russia è scesa in campo in difesa della Serbia. La Germania, alleata dell'Austria, dichiarò guerra prima alla Russia e poi alla Francia, che a sua volta era alleata della Russia. Contemporaneamente i paesi convolti nel conflitto avviarono una mobilitazione generale. Per la prima volta nella storia la guerra non coinvolse un numero limitato di soldati, ma masse enormi di uomini, dove bisognava riunire, bisognava equipaggiare, addestrare, spostare, nonché richiese ampie risorse economiche. Era anche convincimento radicato nelle diplomazie, negli stati maggiori dei vari paesi, che il conflitto sarebbe risolto in tempi brevi, poche settimane di combattimenti e poi sarebbe arrivato ad una nuova pace, quindi ad un accordo di spartizione territoriale. Invece lo sforzo bellico si rivelò assai impegnativo. I preparativi impegnarono tutte le energie produttive dei singoli paesi, nelle fabbriche, nelle campagne, negli uffici, nei servizi, al fine di fornire quanto era richiesto o indispensabile per apparato militare ormai in piena mobilitazione.